Abbiamo già provato insieme in questo video qui in alto nelle schede grazie agli amici di Autotrend la nuova Honda ZRV come di consueto è arrivato il momento di scoprire la sua tecnologia di bordo in un video molto specifico. Prima di mostrarvi la tecnologia di bordo vi faccio vedere qualcosa allora in primis lo schermo è un tablet da 10,25 pollici disponibile anche in configurazione 9 pollici touchscreen si comanda veramente molto bene la tecnologia di bordo comprende oltre al clima automatico bizona anche una presa usb a ed una presa di tipo usb c pulsanti relativi al freno di stazionamento elettrico al break hold le modalità di guida l'heel descent control le modalità di marcia se vogliamo una 12 volt una piattaforma di ricarica wireless che si può anche disattivare con questo pulsante e poi sul volante ulteriori pulsanti che vi farò vedere a breve quando parleremo della strumentazione di guida ma appunto ciò che c'è al centro è questo tablet pulsante home dei bordi da questo lato meno cicciotto che sulla sinistra finitura opaca lo rende veramente tanto leggibile anche le condizioni di luce più ardue soprattutto a mezza giornata pulsante per tornare indietro rotore per il volume attualmente non ci sono dispositivi connessi domani uscirà un nostro tutorial per scoprire come collegare via bluetooth il vostro smartphone alla onda zrv mentre abbiamo per andare avanti indietro con le stazioni radio o con le canzoni in basso delle scorciatoie per raggiungere la navigazione telefono radio bluetooth dub flussi di potenza ovviamente sono personalizzabili in alto abbiamo la sorgente audio l'informazione sul telefono le informazioni sulla per esempio sulle stazioni di servizio per la navigazione e infine l'orario ci mostra l'orologio possiamo anche arrivare a delle impostazioni ma partiamo dal principio tutte le app come vedete tutte quelle attive che possono essere anche visualizzate nella home navigazione questa è la navigazione della vettura un sistema molto fluido per quanto come su ogni auto io vi consiglio di usare google maps o wade per quanto riguarda la connettività tramite android auto e apple carplay che quest'auto ha in dotazione che funziona molto bene però qui comunque abbiamo delle mappe che si comandano in maniera molto fluida c'è anche la funzionalità pinch to zoom che è un po' meno fluida dello scorrimento sulla mappa più e meno per zoomare dentro e fuori orientamento col nord fissato con la bussola secondo quindi l'orientamento della vettura poi con questo pulsante andremo a centrare con la lente di ingrandimento andiamo a selezionare un indirizzo digitandolo con la tastiera alfa numerica oppure se abbiamo salvato di luoghi come casa luoghi salvati destinazioni recenti stazioni di servizio o altro ci mostra questi punti di interesse torniamo indietro con queste tre striscine andiamo ad aprire un menu per esempio con le opzioni della mappa icone del traffico flussi del traffico tema colore auto giorno notte o ancora i punti di interesse li possiamo salvare tracciamento degli spostamenti registrazione spostamenti solo in fuoristrada elimina traccia degli spostamenti o anche le impostazioni per quanto riguarda i punti di riferimento in 3d e con le texture torniamo indietro opzioni tragitto possiamo avere delle preferenze o una dimostrazione la panoramica le deviazioni l'elenco delle destinazioni le deviazioni per il traffico e il metodo di calcolo del percorso che può essere più veloce più breve consigliato che non sempre coincidono come vi dico sempre oltre a questo abbiamo le opzioni di guida l'arrivo stimato con orario di arrivo o il tempo residuo tragitto predittivo elimina apprendimento della cronologia lo zoom automatico il pop up per l'assistenza in manovra la lingua della guida vocale ovviamente in italiano ma c'è una lista di lingue e l'elenco delle manovre poi abbiamo un tutorial quindi questi nostri video diventano sempre più inutili spero che non si fermeranno perché noi abbiamo veramente tanto piacere a portarvi con noi alla scoperta di queste tecnologie di bordo gestisci luoghi qui abbiamo l'area da evitare casa luoghi salvati destinazioni recenti luoghi scaricati poi aggiornamento mappe e impostazioni sulla regolazione della posizione del veicolo oppure il ripristino delle impostazioni predefinite servizi online e le informazioni sulla licenza software tornando indietro quindi queste erano le impostazioni della navigazione andiamo nella home c'è telefono ma non ve lo farò vedere qui ve lo mostrerò domani nel prossimo video fm quindi apriamo la radio abbassiamo il volume con questo bel rotore gripposo abbiamo le radio preferite dj m2 e quant'altro qui ci sono le informazioni il nome del brano e quant'altro la ricerca per frequenze anzi per singole stazioni radio può essere fatta anche dai pulsanti laterali tune le singole frequenze delle stazioni radio precise la scansione delle varie stazioni su cui possiamo sintonizzarci noi andiamo a stopparlo veramente veloce col sistema anche nella risposta del touch le stazioni ora ce le carica tutte come vedete possiamo anche aggiornarle poi abbiamo le impostazioni con le informazioni per quanto riguarda gli annunci del traffico a f regional e notizie oltre l'impostazione abbiamo quelle del suono quindi bassi e acuti acuti medie bassi quindi l'equalizzazione oppure zone audio bilanciamento di solvenza solo conducente solo lato anteriore tutto il veicolo solo lato posteriore quindi se magari un taxi vogliamo far sentire la musica solo a chi sta dietro solo conducente se siamo solo in viaggio vogliamo tutta la musica dell'impianto bose per noi o ancora solo lato anteriore se magari dietro abbiamo i nostri figli che dormono quindi in generale delle buone impostazioni bose center point può essere disattivato o attivato per una esperienza di surround e bose dynamic speed compensation quindi la compensazione del volume in base alla velocità a cui andiamo torniamo indietro quindi questa era la radio audio bluetooth anche qui non ve lo mostro ve lo mostrerò domani connessione smartphone stessa cosa annunci del traffico attivati o disattivati la finestra di flussi di potenza questa è interessante attualmente l'auto è ferma ma ci mostra l'autonomia residua devo assolutamente andare a fare benzina e anche i consumi attuali attualmente siamo fermi questi sono i consumi di media in generale della vettura noi nella nostra esperienza abbiamo registrato circa 5 5,2 litri su 100 chilometri e qui in generale ci mostra i flussi di potenza motore pacco batterie nel posteriore ci mostrerà appunto il flusso in base all'utilizzo che ne stiamo facendo andiamo alla seconda finestra impostazioni generali quelle di sistema quindi per data e ora impostazione per data e ora con automatiche impostando date ora manualmente fuso orario ora standard europa orientale il gmt come vedete ce ne sono parecchie ora legale automatica formato data giorni mesi o anni mesi giorni anni o anni mesi giorni poi formato ora 24 o 12 ore e basta impostazioni della lingua abbiamo tutte le lingue per quanto riguarda la strumentazione il display centrale sensibilità del pannello sfioramento alta normale diciamo normale va più che bene per quanto non abbiamo un feedback aptico ma comunque c'è una buona risposta di questo touch per quanto riguarda l'utilizzo di questo sistema infotainment i volumi di sistema ecco qui allora abbiamo il sistema magari li togliamo va bene sintesi vocale guida del sistema di navigazione chiamate telefoniche torniamo indietro impostazione condivisione di dati attiva rifornimento consigliato attivo le informazioni sullo stato del sistema infotainment sulle informazioni legali numero di modello la versione android perché su base android e quant'altro vari dati da nerd ripristina e poi informazioni dettagliate per esempio sul gestore app connessione smartphone quindi qui ci sono le impostazioni tramite android auto ed apple carplay vediamo per esempio apple carplay prima mi sono collegato we drive carlo è il nome del mio dispositivo e possiamo connetterlo o eliminarlo poi display anzi no torniamo indietro connessioni wifi cambia modalità per esempio da smartphone o wifi del veicolo bluetooth qui ci sono i dispositivi precedentemente collegati display impostazioni per quanto riguarda la luminosità più tenue più luminosa il contrasto più alto più basso e il livello del nero più scuro o più sbiadito se vogliamo impostazioni del suono le abbiamo viste prima intanto l'auto si accende si spegne perché io ho bisogno dell'aria condizionata e quindi la lasciamo accesa ma quando vuole lei dopo che ha finito di caricare il pacco batterie torna a spegnersi impostazioni della telecamera videocamera posteriore linee guida fisse dinamica attive anzi mettiamo in retromarcia così ve le faccio vedere come vedete le griglie dinamiche la visualizzazione a 180 gradi una visualizzazione più regolare o dall'alto per vedere degli ostacoli come marcia a piedi e muretti uno split screen con i sensori di parcheggio e la visualizzazione della luminosità che possiamo scegliere per il sistema di visualizzazione della retrocamera traffico circostante sempre attivo mi raccomando infine comandi vocali la modalità di comando vocale può essere normale o assistita queste erano le impostazioni in generale ma ci sono anche quelle del veicolo abbiamo il sistema di controllo a pressione pneumatici per calibrarlo dopo che li gonfiamo le impostazioni per i sistemi di assistenza alla guida come la segnalazione della distanza dal veicolo che ci precede normale vicino lontano o ancora l'avviso sul parabrezza il cruise controller attivo con l'avviso acustico della vettura che ci precede quando esce dentro dalla gamma di distanza che abbiamo scelto impostazione per la riduzione del rischio allontanamento dalla corsia quindi un controllo fisico che può essere anticipato normale o ritardato poi allarme nel sistema di mantenimento di corsia quindi acustico oltre a questo rilevamento dei veicoli in zona d'ombra quindi nel bliss nell'angolo cieco visualizzazione del sistema di riconoscimento della segnaletica stradale sulla strumentazione l'avviso acustico del cambiamento del segnale del limite di velocità è su off monitoraggio attenzione al conducente tattile acustico solo tattile o su off impostazione del sensore posteriore quindi per i sensori di parcheggio attualmente sono su on impostazione del misuratore dell'edat display quindi messaggio dell'alerta sono su on la temperatura esterna in base ai gradi celsius possiamo regolarla l'azzeramento del trip a e trip b il controllo del volume dei segnali acustici massimo medio o minimo noi lo mettiamo su minimo poi abbiamo il suono dell'avviso per la retromarcia inserita su on la retroilluminazione dell'efficienza energetica alla guida su on e il display per le direzioni del percorso su on nell'edat display infine unità di misura della velocità in chilometri o miglia promemoria dei sedili posteriori per avvisarci se ci stiamo dimenticando diciamo qualcosa ecco diciamo qualcosa può succedere torniamo indietro impostazione della posizione di guida possiamo avere il link per la memoria della posizione lo spostamento della posizione del sedile all'ingresso è in uscita quindi una discesa comfort impostazione accesso senza chiavi apre tutte le porte con il chiles e il lampeggio per quanto riguarda l'accesso senza chiavi impostazione delle luci adapted driving beam quindi gli abbaglianti adattivi per non accecare chi ci viene davanti senza spegnerli però l'attonazione delle luci interne dopo 30 secondi che si spegne la macchina lo spegnimento automatico dei fari dopo 15 secondi l'integrazione dei fari con 3g cristalli su on infine impostazioni porte finestrine abbiamo lo sblocco chiave telecomando per tutte le porte la preimpostazione del blocco su on come anche l'avviso della chiusura senza chiave la chiusura automatica dello specchio retrovisore e il comando a distanza per i finestrini dal telecomando poi abbiamo ancora l'impostazione del portellone elettrico sempre attivata la modalità di apertura senza chiave solo quando è sbloccato l'azionamento dell'apertura della maniglia esterna on off e poi l'accesso hands free quindi semplicemente facendo strisciare il piede sotto il paraurti cos'altro abbiamo predictive eco assist vediamo cos'è attiva e disattiva il sistema che contribuisce a risparmi di carburante ottimizzando lo stato di carica della batteria poi promemoria il controllo del livello dell'olio motore dopo il controllo ovviamente quindi questo molto simile al controllo di pressione pneumatici e poi le informazioni sulla manutenzione tra 280 giorni quindi gli amici di autotren hanno ancora molto tempo computer di viaggio qui ci sono le condizioni di guida poi il trip a e il trip b possiamo impostarlo e azzerarlo come abbiamo visto prima usb quindi se ci fossero dispositivi connessi am o dub quindi delle shortcut per la sorgente audio la possiamo scegliere anche da qui insieme alla usb allo smartphone o l'audio bluetooth aggiornamenti di sistema wifi hotspot e poi abbiamo orologio l'abbiamo visto prima messaggi con le notifiche e modalità di visualizzazione come abbiamo visto display si può mettere anche su off infine c'è anche il manuale utente se io vado nella home su tutte le app praticamente le abbiamo visualizzate tutte perché sono tutte attive tranne il programma di installazione delle app che non ci interessa in questo momento adesso dopo aver visto questo complesso ma molto completo sistema di infotain ci spostiamo sulla strumentazione infatti dietro il volante abbiamo 7 o 10,25 pollici per quanto riguarda la strumentazione di guida che si può controllare tramite questi pulsanti abbiamo due visualizzazioni due segmenti circolari lato sinistro per quanto riguarda i giri motore o comunque l'utilizzo della potenza in modalità elettrica lato destro il tachimetro al loro interno varie visualizzazioni che si controllano sulla sinistra con rotore di sinistra vediamo un po le visualizzazioni per esempio per la sorgente e anche per la personalizzazione del display per nascondi mostra orologio e quant'altro per tornare indietro per il telefono e si torna anche alla radio su invece la razza destra troviamo altri pulsanti qui i primi erano per quanto riguarda la sintonizzazione per la radio per i brani musicali e per il volume oltre che per il comando vocale sulla razza di destra invece abbiamo la visualizzazione del limitatore per cancellare la memoria della velocità impostata qui c'è il limitatore anzi no questo è il cruise quest è il limitatore e possiamo anche andare sul resume su set per andare anche oltre con più e meno per avere una velocità precisa del cruise controller attivo il mantenimento delle distanze che ci precede il mantenimento di corsia il pulsante qui in basso per il riscaldamento del volante ma soprattutto questo pulsante che ci fa vedere le varie visualizzazioni come per esempio il flusso di energia e il livello carburante le impostazioni della strumentazione ma anche le impostazioni dell'head up display con i contenuti come vedete il tachimetro ma anche la navigazione vedete laggiù poi vi faccio vedere l'assistenza al conducente l'head up display disattivato e poi di nuovo il tachimetro la luminosità dell'head up display che può essere abbassata o alzata vedete la differenza o l'altezza dell'head up display vedete lo sto alzando e abbassando si vede sensibilmente nel video e basta oltre alle impostazioni dell'head up display abbiamo anche la luminosità non capisco di che cosa in quanto rimane sempre al massimo meglio così poi nessun contenuto per cambiare qui da chilometri a migliorare dobbiamo tenere premuto il rotore oppure abbiamo i supporti di sicurezza con il mantenimento di corsia l'angolo cieco la frenata d'emergenza i sensori di parcheggio e l'impianto frenante anticollisione infine la manutenzione le cinture di sicurezza il livello di assistenza del conducente gli avvisi sonori per i limiti di velocità che sono disattivati la bussola e le informazioni sul trip questa quindi era tutta la tecnologia di bordo della nuova Honda ZRV ora vi chiedo di farci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di lasciarci un like se questo video vi è tornato utile inoltre di restare aggiornati con tutte le nostre piattaforme iscrivendovi al canale cliccando sul campanello ma noi non siamo solo su youtube cercateci anche su tiktok su instagram dove vi pare e anche sul nostro sito web trovarci semplicissimo vi iscrivendovi al canale iscrivendovi al canale iscrivendovi al canale